E' stata lasciata in stato di degrado e abbandono, ma ora dopo anni di inutilizzo, la vecchia palazzina delle opere marittime verrà sistemata e trasformata in un punto IAT. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco Stefano Marchegiani con un posto pubblicato sulla sua pagina Facebook. L'assessore alla cultura del comune di Fano scrive che è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di ristrutturazione e che il nuovo punto di informazioni turistiche potrà essere operativo dal prossimo mese di luglio. E' il piccolo edificio color carta da zucchero delle opere marittime abbandonato da anni con una convenzione ovviamente il comune grazie all'aiuto della provincia, 70 mila euro che ci vengono messi a disposizione. Si completa quella strategia di aprire punti IAT in diverse zone della città, uno l'abbiamo aperto sul fine del 2014 in piazza con grande visibilità, l'ufficio turistico resta dove è e questo è un ulteriore punto molto strategico perché appunto la confluenza tra Lido e Sassonia, molto visibile e sarà attrezzato con una rampa per portatori di handicap, servizi igienici, tre zone operative per impiegati e darà molta informazione sulle iniziative di accoglienza e promozione di tutto il territorio provinciale, nella fattispecie di Fano anche servendo gli esercenti e coloro che operano nelle attività ricettive. Ma i lavori di restauro non terminano qui nella città della Fortuna perché oltre a realizzare un'uscita di sicurezza alla Rocca Malatessiana per poter ospitare 20 con 800 persone, l'amministrazione comunale renderà più funzionale la Rocca consolidando le sue mura. Ci sono delle somme, mi diceva l'ingegnere Caiterzi che ha curato insieme alla sua intendenza il progetto, che saranno impegnate per delle opere necessarie di pronto intervento nella zona soprattutto della Rocchetta, che incombo ovviamente sull'uscita di sicurezza di cui abbiamo parlato, quindi mettano in salvaguardia anche i paramenti murari che incombono sull'uscita di sicurezza. Però credo che questa operazione ci dia l'opportunità, vedendo i ribassi d'asta, ma vedendo anche la possibilità di gestione che quel monumento potrà avere in futuro, di programmare un completo restauro della Rocchetta e chissà un domani anche la ricostruzione del maschio che è stato abbattuto dai tedeschi, come negli auspici di tutti i fanesi ma anche della sua intendenza.